Si vede davvero la luce in fondo al tunnel, il caso di dire, per quanto riguarda questa pandemia. Notizie che arrivano da Roma, dal governo, si va verso un cambiamento degli orari del coprifuoco, delle riaperture, da giugno ulteriori riaperture. Una bella notizia per tutti gli abruzzesi, in questo caso per Chieti, la città e tutti i cittadini. Una bella notizia che già prevedevo e in una precedente intervista avevo espresso il mio punto di vista e cioè che tutte le cose dovessero essere fatte gradualmente, così come il governo sta facendo e in particolare per il coprifuoco. Per quanto riguarda l'Abruzzo, avevo già avuto modo di dire che le cose da noi vanno bene o comunque vanno meglio rispetto al territorio nazionale, dove l'RT, cioè l'indice di contaggiosità, è stabilmente attestato a 0,89, mentre in Abruzzo a 0,75, quindi meglio delle restanti regioni. Addirittura a Chieti abbiamo un indice di incidenza di 8 contagi su 100.000 abitanti, quindi stiamo ben al di sotto del limite di pericolosità e quindi la zona di colore bianco è per noi particolarmente appropriata. Quindi sono contento di questa situazione, merito dei vaccini che stanno procedendo bene. Nella provincia di Chieti sono stati effettuati ad oggi circa 200.000 vaccini, si stanno completando le inoculazioni alle fasce di età tra 70-80 e 60-70 e quindi pensiamo che per il mese di agosto raggiungeremo l'immunità di gregge. Grazie. Grazie.